Via Libera dalla Commissione Sanità e Politiche Sociali del Consiglio regionale alla ripartizione dei fondi per il funzionamento dei centri antiviolenza e le case di accoglienza. Provedimento deliberato dall'Aggiunta regionale il 20 dicembre. L'organismo consigliare ha approvato il provvedimento a maggioranza. Per il 2017 le risorse disponibili ammontano a un milione di euro. 700.000 derivano dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. 300.000 invece sono state stanziate direttamente dal bilancio regionale. Il 70% dello stanziamento, spiega in una nota la regione, sarà destinato alle case di accoglienza. I restanti 300.000 invece saranno divisi in ugual misura tra gli otto centri antiviolenza presenti nell'isola. Tra questi figura anche il centro antiviolenza Onda Rosa di Nuoro. Alla provincia del sud Sardegna invece è stata riconosciuta la competenza nella gestione del centro antiviolenza del Medio Campidano e l'avvio della sede operativa del sul Cisiglesiente. Per evitare che le strutture siano costrette ad anticipare le spese le risorse saranno trasferite in un'unica soluzione ha spiegato l'assessore alla sanità Luigi Arro. Il nostro obiettivo è la semplificazione. L'assessore inoltre ha comunicato ai componenti della Commissione che per il 2017 saranno disponibili altri 889.000 euro che proverranno anche in questo caso dal Fondo del Ministero per le Politiche Sociali. Grazie.